Ora, vai dritto, in fondo becca quella ruotatoria, la vedi? Bene, prendi lo svincolo, supera il crocicchio, becca la discesa e perché già sei arrivato? Ciao! Ah, finalmente sei arrivato, stiamo aspettando solo te per iniziare. Allora, ho una fender strato bianca, è una telecaster, ciao! Sei proprio sicuro? Ecco Danilo, toga! E' quello che fa? Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Sì, 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 sì. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!